Un'altra attività commerciale che chiude in città, Cookie Bar, a due anni dall'inaugurazione, è costretto a chiudere i battenti. La crisi dovuta alla pandemia ha messo in ginocchio l'intero settore. A questo si è aggiunto il reddito di cittadinanza che non ha per niente aiutato i negozianti, ma la vera crisi che lamentano i commercianti avellinesi è quella relativa al personale. Il reale problema è legato al fatto che non c'è spirito di sacrificio, quindi che lavoro ha bisogno di avere spirito di sacrificio. Non si trova neanche più quel ragazzo che magari faceva due o tre mesi per mettere da parte dei soldini per poter poi andare in vacanza senza essere soggetto ai genitori. Un problema che accomuna tutti, sempre più difficile trovare giovani e personale per lavori impegnativi e molti di loro sono costretti appunto a chiudere. Come ha fatto anche il ristorante Gusto di Via Tagliamento che ha spiegato ai suoi clienti di aver chiuso la saracinesca proprio per non aver trovato personale adatto. Oggi è molto più semplice accontentarsi di un lavoro, una tantum o dei genitori che da dietro sostengono i figli e quindi nessun ragazzo ha voglia di imparare a fare questo o di voler non chiedere più ai genitori i soldi.